la sei vista l'Ivitazione di Crozza? ah si si come no, ma guarda quello è ispirato è ispirato alla tua intervista perché io l'esclusiva l'ho data a te e vabbè l'hai data per prima l'hai data per prima ma poi l'ha data a Repubblica e poi l'ha fatta lui ma in realtà poi ma lui in generale fa un po' di licenza poetica cioè non fa un'imitazione precisa dei personaggi lui per esempio a me attribuisce più accento napoletano di quello che ho e quindi tende a fare si fa nu gaga nu gaga così gli viene e così mi fa ma poi alla fine ho detto a Berlusconi poco fa gli ho detto guarda non è che ogni volta che ci vediamo qua dopo Crozza deve fare una cosa e mica sei tu che lo dici e ti prende se te salda la fattura ma guarda in realtà quello che io ti ho detto era per difetto perché l'abbiamo parlato perché abbiamo fatto una rinnovazione c'è una fideiussione sua per 100 milioni su Forza Italia 100 milioni di Euro e sommando le fideiussioni che ho messo io ho constatato che è un milione hai un milione di fideiussioni? di fideiussioni io ho fatto fideiussioni alla DC come partito come fondazione e come giornale sommandole si raggiunge un milione e poi lo vai a spiegare e ti aggrediscono cioè spiegare che io spendo più di queste cose di quanto guadagno come deputato non lo puoi manco dire perché la gente ti dice vabbè ma la fideiussione è una cosa diversa no la fideiussione adesso bisogna rientrare anche perché io ho detto in questa fase qui conviene che facciamo delle transazioni e tutto finito no non saranno un milione ma 400 ce li metto non c'è dai lucas ma io non sono assolutamente dispiaciuto perché con la stessa obiettività se sommi quello che ho guadagnato facendo il deputato per 13 anni prima il consigliere regionale poi gli ho mandato se l'hai preso una partita di giro abbiamo campato abbiamo campato vabbè hai mangiato ma sì esatto non mi sono arricchito e non mi sono impoverito hai vissuto non è questo il pinto ma lui 100 li perderà perché non è che ci sono molte altre sta trattando sta trattando al 2,5% alla fine chiude in 5 anni e pagherà per la storia che nessuno farà anche perché io non sono un personaggio molto popolare perché ognuno ha una sua cioè non sono un mostro di simpatia ne sono consapevole ma per la storia dopo Berlusconi dico che ci ha rimesso una cosa tutti gli altri raccontano favole che sai io esibisco i dati nella storia della DC che ci abbiamo rimesso ce ne sono non ti dico sai chi ci ha rimesso tra milio piccoli ci ha rimesso la casa per lo stesso che ero di firmare la DC aveva una casa credo a orti della parmesina a Balduina credo perché lo vedevo mi hanno concesso di abitare fino alla morte sua e della moglie poi dopo si è presa la banca insomma quindi la figlia che ci ha rimesso la figlia poverina credo ci ha messo anche qualcosa d'altro contro la casa perché lui firmò la videossione sulla riunione penso un po' dell'internazionale democristiana quindi lui pagò l'albergo e il ristorante a tutti i delegati di tutto il mondo quando era presidente dell'internazionale DC